Passaggio a vuoto nel processo per l'omicidio dell'imprenditore agricolo di Amato di Taurinova Agostino Ascone. L'udienza, in programma ieri mattina davanti alla Corte d'Assise di Palmi, è stata rinviata a gennaio per la mancata presentazione in aula dei testi indicati dalla difesa dell'imputato Salvatore Antonio Figliuzzi. La Corte, composta dal Presidente Francesco Petrone, dalla giudice Anna Laura Scioti e da otto giudici popolari alla presenza del Pubblico Ministero Salvatore Rossello, ha disposto per la prossima convocazione l'accompagnamento coattivo dei testi. Inoltre ha rigettato la richiesta di perizia sull'automobile utilizzata il 27 dicembre 2021 da Figliuzzi, giorno della scomparsa di Ascone avanzata dai legali dell'imputato e ritenuta dalla Corte non rilevante. Il processo per la morte dell'imprenditore agricolo Agostino Nascone vede alla sbarra la moglie Ilaria Sturiale e Salvatore Antonio Figliuzzi, entrambi difesi dagli avvocati Giuseppe Pirozzo e Domenico Falanga, Giuseppe Trapasso, difeso dagli avvocati Giovanni Vestefano e Giorgio D'Acqua. Le persone offese, costituite in giudizio, sono rappresentate dagli avvocati Pasquale Loiacono, Michele Ceruso e Annunziata Modafferi e Leda Badolati. La prossima udienza del processo è stata fissata dunque il 9 gennaio per l'esame dei testi indicati dalla difesa di Salvatore Antonio Figliuzzi.